Grazie a tutti, io sono qui oggi in Sala degli Arazzi, è stata addobbata con tutti questi bellissimi fiori che mi avete mandato, mi state testimoniato tantissimo sostegno in queste ore, molti fiori, molti biglietti, molte lettere da tutta Roma, anche da altre parti dell'Italia, da Sassari, da Bari, da Milano, da Brindisi, siete veramente tanti. Sto sentendo molto il vostro sostegno e in questo momento sicuramente non facile è quello che serve, riempie il cuore, grazie davvero.